musica 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 eccolo qua io l'ho messo proprio davanti alla bocca no a un certo punto si era formato uno scuro e lì l'ho fatto tanto che è pieno di Italia ma tutto nuovo la mi sa che è anche un baffo si mi sa che è anche un baffo mi sa che è pieno mi sa che è un baffo non è un baffo non è un baffo non è un baffo no no è fuori ma vedi tu non è un baffo non è un baffo non è un baffo questo è quello dell'altra volta non è un baffo non è un baffo non è un baffo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa qui è tutta in ottone. Per quello che lo uso volentieri. No, no. Allora, anche... L'altra volta si è fatto su tutto così. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ma, 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 non lo so, non lo so. Questo qua è un siluro. No, no. Oh, è una carpa rapinata. No, no, no. Esattamente dove l'ho attaccato l'altra volta. Deve deve essere lo stesso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti.